questo super webinar su linkedin allora intanto vi chiederai un secco scusate che sto aggiustando la camera tutto se mi sentite se mi vedete datemi un saluto allora ok fiorenzo buon pomeriggio a te buon pomeriggio a voi luigi che ci saluta da cagliari wow beh lì dovrebbe essere più caldo più sole di qua più bello allora buongiorno a vito buongiorno stefano buongiorno giacomo maurizio martina ma mia quanti siete daniele alessio luigi mamma mia che bello marta lidia paride allora oggi siamo tantissimi infatti sono veramente entusiasta di questa cosa e questo è il primo webinar sugli esperti dopo la pausa estiva commesso non so se avete già seguito i webinar con esperti nel primo periodo dell'anno abbiamo avuto se volete che non siete riusciti a vederli potete andare a riguardarveli dopo sta info abbiamo avuto valentina bellucci che ci ha parlato di analisi dei dati digital abbiamo avuto elisa che si è parlato si sia un zoom e quindi del della seo debba che si è parlato di copywriting quindi se non li avete li avete persi potete andare nel sito web sezione risorse webinar guest webinar e trovate tutti quelli con gli ospiti allora intanto vedo che vi state continuando ad entrare quindi ciao marco ciao jessica e un abbraccio a tutti benissimo guardate il webinar di oggi è molto interessante è un argomento che io ho voluto a tutti i costi avere quindi insomma se hosting perché ho ricevuto nel corso di questi mesi molte richieste da voi per avere questo webinar buongiorno paolo anche a te intanto vi saluto e niente ha avuto molte richieste su linkedin bravo perché immagino che sia una una piattaforma un social diciamo di cui forse se ne parla un po poco devo dire la verità mille corsi di formazione sul peso mare anche su instagram su linkedin un po meno però è interessante capire come possiamo utilizzare sia per fare personal branding che per ovviamente poi andare a supportare quello che è la nostra azienda agenzia attività o quello che sia quindi il mio cappello è praticamente concluso se volete andare a vedere i webinar passati come vi dicevo potete andare a vederveli e insomma nel sito sezione risorse webinar test webinar se non li trovate fatemi sapere colgo l'occasione per dirvi che il prossimo mese avremo una super esperta ve lo dico in mega anteprima perché non è uscita nessun tipo di comunicazione però ci tengo a dirvelo perché voi che siete online diretta di questo webinar dovete sapere cosa in anteprima quindi ruolo di tamburi avremo la social media strategist e manager di client school che è non so se la conoscete fatemi sapere se la conoscete è la più grande accademia di informazione per negozianti in italia e ci andrà a parlare di come utilizzare instagram per valorizzare il nostro negozio quindi è una figata io lo sto dicendo in strandi prima mi raccomando acqua in bocca e marta ci dice wow wow yeah sì ragazzi io vedrete che se continuate a seguirci io sto cercando di accalappiarmi argomenti molto interessanti insomma rimanete connessi con noi niente non mi resta altro che presentarvi il nostro ospite di oggi oggi abbiamo giorgio venturini che è un linkedin specialist è consulente linkedin e di cosa si occupa giorgio lascio dirlo a lui quindi giorgio ti chiederei di comparire con audio video e così ve lo presento in diretta allora diciamo che eccolo qua ciao giorgio ciao marta buongiorno a tutti buongiorno allora io adesso ti lascio la parola volevo solamente dire ai nostri ai nostri amici webinari webinari che possono scrivermi tutto quello che vogliono in chat io ti farò tutte le domande alla fine quindi sapete che abbiamo 40 minuti di lezione frontale poi voi scrivete chiedete e io riprenderò tutto alla fine faremo un'intervista live con giorgio e insomma chiariremo tutti i vostri dubbi tutto chiaro io giorgio mi tolgo e lasciate la parola grazie marta buongiorno a tutti intanto grazie per la presentazione a marta e per l'invito a partecipare a questo questo webinar marta mi ha definito specialista linkedin effetti è quello che io faccio essere mi occupo di linkedin a tempo pieno sia come formatore che come consulente di aziende e di professionisti lo faccio da un po di tempo un'esperienza che viene dal mondo del marketing e dal mondo del commerciale poi le informazioni su di me le trovate su linkedin quindi non ci fermiamo non dedichiamo tempo a me linkedin io lo definisco il mondo reale del digitale perché perché su linkedin dobbiamo sforzarci di portare noi stessi quindi è la piattaforma all'interno della quale l'ambito personal branding trova perfetta perfetta attuazione di cosa parleremo oggi abbiamo 40 minuti il tempo non è tantissimo linkedin è vasto quindi tenteremo di dare una panoramica generale coprendo le varie aree variare di interesse allora giorgio scusami che ti intervisto rompo ma non ti sentiamo più quindi giorgio allora giorgio in particolare giorgio ti fermo perché il tuo audio è andato e adesso l'abbiamo ripigliato quindi mi raccomando se il microfono qualcosa si era perso l'audio adesso ti risentiamo quindi non so se l'hai chiuso dentro ok mi segnali tu se devo frenare ok esatto tu adesso procedi probabilmente si era tolto il microfonetto quindi puoi continuare vediamo ok ciao beh fino a qua si è sentito Marta si vai pure avanti vai pure avanti quindi stiamo parlando di penetrazione social media che ormai appunto è diffusa in tutte le regioni del mondo in modo estremamente interessante e stiamo parlando contestualmente di che cosa di tempo speso sui social media vedete che la media giornaliera nella sola italia è di quasi due ore di tempo dedicato ai social media chiaramente social media essenzialmente per tempo libero ma tra questi sta emergendo l'attività in tipo professionale cosa dire in relazione a questo possiamo come dire affermare che noi possiamo scegliere di non esserci no non possiamo scegliere di non essere presenti in particolare su cosa su social media scusate che che è un social media di tipo professionale quindi è vero che il nostro brand per personale è vero che il brand della nostra azienda del nostro negozio può essere a rischio se non gestiamo bene i social certo però essere assenti come racconta questo articolo uscito poco tempo fa sul sole non è certo un'opzione noi sui social soprattutto professionali quali LinkedIn dobbiamo essere presenti vero è che quello che vedete adesso è un'azienda presente su LinkedIn un'azienda si può presentare in questo modo o come vedete si può presentare sulla stessa piattaforma in questo modo quindi qui abbiamo due aziende che fanno un lavoro non così diverso tra di loro e che si presentano così o così ai loro potenziali clienti allo stesso modo abbiamo un imprenditore imprenditrice in questo caso si presenta così su LinkedIn e una che si presenta così su LinkedIn quindi ecco che appare evidente come sia indispensabile curare la propria presenza perché altri lo faranno di sicuro il digitale basato sulla reputazione vorrei dire tutto il digital noi quando siamo presenti nel mondo digitale non siamo noi di persona quindi il digital qual è l'elemento del digital importante è quello di creare una reputazione evidentemente una buona reputazione per farlo abbiamo a disposizione uno dei vari strumenti tra cui appunto LinkedIn mi chiedi in come costruisco però la reputazione la costruisco intanto raccontando che cosa so fare saper fare qualcosa dal punto di vista professionale quindi il cosa sai fare dobbiamo raccontare un po' come lo sappiamo fare questo qualcosa perché il come facciamo le cose a volte ci distingue e infatti ci rende un po' diversi dai nostri diretti concorrenti sia che parliamo in termini di azienda sia che parliamo dal punto di vista del libero professionista devo parlare di che vantaggi offro ai miei clienti perché loro decideranno in base ai vantaggi che noi offriamo e da ultimo ma direi forse più importante dobbiamo tentare di rendere il nostro prezzo corretto ovvero creare corrispondenza tra quello che è il nostro valore o il valore percepito dai nostri clienti e quello che è il nostro prezzo spesso il tema del prezzo si concretizza nel tempo che le persone ci dedicano per chi fa un'attività commerciale sa quanto importante è che un cliente gli dedichi tempo ecco che quindi la corrispondenza tra valore personale e valore per il cliente determina questo equilibrio tra le cose ecco quello di cui stiamo parlando può sembrare una cosa molto teorica in realtà questi concetti sono proprio i concetti che io dovrei saper portare all'interno di LinkedIn perché? Perché LinkedIn permette proprio di parlare di queste cose se usate in modo corretto il punto di partenza è sicuramente la nostra competenza sono sicuramente le nostre competenze la caratteristica minima proprio per sviluppare reputazione è essere competenti di qualcosa e le persone, ma questo lo sappiamo, in qualsiasi ambito della nostra vita, vuole dire anche della nostra vita personale vogliono parlare con chi può risolvere realmente i loro problemi questo è un po' lo strato, il substrato su cui dovremmo costruire la nostra presenza LinkedIn e quindi chiederci, anzi chiedo io, voi che competenza avete, come vi differenziate, che valore fornite la risposta che voi darete a queste domande è quella parte che vi permetterà di essere in modo efficace presenti su LinkedIn dicevamo, LinkedIn digital è basato sulla reputazione LinkedIn è lo strumento, assolutamente lo strumento e lo strumento di verifica della reputazione di costruzione della reputazione questo perché? Perché lavora su un network professionale all'interno del quale il tema è proprio essere riconoscibili per le nostre competenze perché LinkedIn? Beh, LinkedIn ha varie ragioni di esistere e a seconda di quello che noi siamo della nostra professionalità consente di sviluppare degli obiettivi beh, intanto in quanto social, social network è un ambito all'interno del quale stabilire delle relazioni profittevole quindi il primo gradino è vedere LinkedIn come uno strumento di relazione poi ci permette ovviamente di trovare le persone che ci interessano soprattutto di farci trovare delle persone che ci interessano ecco, questo è direi lo step più interessante cioè essere presenti in modo così adeguato su LinkedIn che sono gli altri a cercarci per le nostre competenze permette di attirare e trovare talenti è chiaramente un'importante piattaforma di recruiting e ci permette più in generale di creare la reputazione digitale sia come persona fisica che come azienda se eventualmente sto parlando come azienda ok, fatta questa premessa di tipo generale proviamo a capire rapidamente come è strutturata la piattaforma proprio perché quello che vi racconterò poi che sono i primi passi da fare va inquadrato nell'ambito di quella che è la piattaforma complessiva LinkedIn LinkedIn è conosciuto essenzialmente per la parte di profilo personale e in modo errato di curriculum digitale vediamo che cos'è la piattaforma la piattaforma intanto è una piattaforma che ospita più di 600 milioni di membri ok, gestisce 21 milioni di offerte di lavoro contemporaneamente per quanto riguarda l'Italia ecco arriviamo all'Italia porta fino a quasi 14 milioni di iscritti in questo momento e il dato molto interessante è che Milano quanto area metropolitana quando parliamo in Milano per LinkedIn stiamo parlando sostanzialmente del nord Italia è la quinta area metropolitana come tasso di crescita al mondo questo è il terzo anno in cui siamo in questa situazione perché è interessante questo dato? perché mi fa capire che dei 14 milioni di iscritti più o meno 7 milioni sono estremamente attivi e presenti nelle nuove logiche di link come piattaforma non fa distinzione tra grande o piccola azienda la piattaforma è la stessa il quasi è riferito ovviamente ai servizi a pagamento che comunque non stravolgono la struttura della piattaforma sapete che è stata acquisita da Microsoft nel 2016 questo ha portato una grandissima spinta nella presenza di link e di presso le aziende è un social e quindi si fonda sui profili personali ma poi parleremo di questo e già nella versione diciamo gratuita è già molto potente nelle versioni premium sblocca una serie di funzioni su database e di funzioni di contatto che sono ovviamente molto interessanti è essenziale avere sistemato la versione diciamo gratuita prima di procedere nella versione eventuale premium dunque parlando di struttura della piattaforma quindi veniamo per macro punti a come è organizzato beh innanzitutto esistono le pagine azienda quindi si fonda sulle pagine azienda e sui profili personali che sono ben distinti sottolineo anche per chi ci seguisse ed è imprenditore che il profilo personale è un profilo personale quindi di proprietà della persona non è di proprietà in nessun modo dell'azienda la pagina azienda chiaramente viene creata e gestita dall'azienda è basata come tutti i social su una home page quindi che ospita i contenuti del feed ed ha in sé una funzione molto interessante che è quella di ricerca a lato di LinkedIn.com esistono due applicazioni una si chiama Sales Navigator l'altra è rientra nella logica di Talent Solution che sono rispettivamente l'applicazione per gestire le attività le attività di commerciali quindi fortemente orientata alla vendita e l'altra è Talent Solution che è orientata alla componente di recruiting della piattaforma stessa oggi parleremo ovviamente della parte base quindi LinkedIn.com avevamo già visto prima questo è un esempio quindi di pagina azienda a lato vedete uno screen dei profili personali i quali ovviamente dovrebbero torno indietro un attimo avere coerenza rispetto alla pagina azienda esiste dicevamo la home page con il feed che ospita i contenuti quindi con i vari post che vengono post e articoli che vengono pubblicati esiste una funzione di ricerca che è una funzione di ricerca molto interessante tant'è che permette poi già nella versione del rispetto base di collegare una serie di filtri che qua vedete che mi permette di selezionare persone, offerte di lavoro, aziende, gruppi, scuole, università e poi di ulteriormente filtrarli per località, collegamenti e aziende attuali quindi c'è già nella versione base un sistema di ricerca abbastanza sofisticato proviamo a smarcare subito un concetto pagina aziendale o profilo personale lo faccio usando un'infografica e partendo dal presupposto che è un social network quindi si basa sul profilo personale simulando la relazione tra pagina azienda e profilo personale con un potenziale cliente vediamo anche solo in modo grafico come la pagina azienda possa sviluppare meno attività rispetto al profilo personale nello specifico il profilo personale può condurre le ricerche come avevo detto prima e può creare articoli quindi realizzare un proprio blog quindi un approfondimento che è molto più di un singolo blog di un semplice post e in una versione premium mandare email cioè mettersi in contatto con qualsiasi persona presente in Linkedin anche se non è un contatto diretto quindi poter comunicare con chiunque della rete la struttura è ovviamente articolata adesso non riusciamo a approfondire tutti i punti però ecco questo è già una infografica che dovrebbe darmi già il senso generale dell'importanza del profilo personale anche rispetto alla pagina aziendale con la quale peraltro il profilo personale chiaramente dialoga e dalla quale prende forza quindi chiaramente prende credibilità e costruisce reputazione proprio per essere collegato a una pagina aziendale lavorare per far funzionare Linkedin intanto il virgolettato di far funzionare significa che nel momento in cui io faccio bene le cose Linkedin lavora molto per me quindi mi metterà lui in contatto con persone interessanti farà in modo che i miei contenuti e il mio profilo vengano visti dalle persone che ci interessano quindi dobbiamo lavorare sul profilo e company page dobbiamo lavorare nel produrre contenuti o vedremo condividere e lavorare su quelli di altri creare un network pertinente e lavorare con un'interazione costante con le persone che ci interessano ecco vedete da questo che il profilo è un pezzettino oggi ci concentreremo già con degli aspetti pratici da portare avanti sul profilo ma il profilo in sé è un pezzettino della strategia complessiva LinkedIn da dove partire? beh intanto accedendo al nostro profilo avremo sempre a disposizione le famose matitine che voi vedete visualizzate per fare tutte le modifiche del caso quindi è molto intuitivo è molto semplice io accedo al mio profilo e da questo riesco poi a realizzare le modifiche vediamo quali sono le cose da fare i 5 suggerimenti base ecco questi vi invito veramente a seguire la lettera perché vi permetteranno da subito di essere efficaci con la piattaforma beh innanzitutto scegliere una foto adatta e poi ne parleremo impostare il sommario ovvero ma poi lo vedremo graficamente comunque ovvero la descrizione sotto la nostra foto curare le informazioni in altre in alcune versioni si chiamano di epilogo e aggiungere l'immagine in copertina da ultimo mettere come contattarci perché noi siamo presenti su LinkedIn per stabilire relazione e non molti di voi immagino avranno in questo momento curato la sezione contatti qui in modo grafico un po' segmentato vediamo comunque le cose da fare ripetiamo immagine di copertina e foto non a caso LinkedIn come prima cosa ci fa vedere proprio la foto e l'immagine di copertina quindi presupponiamo di averla in ordine il sommario che deve rispettare alcune regole che poi vediamo le informazioni di contatto perché se qualcuno vuole mettersi in contatto come lo possa fare poi le informazioni di tipo generale che raccontano di noi foto profilo innanzitutto riconoscibilità non ha senso essere presenti su un social network professionale poi non essere riconoscibili a chiunque di noi darebbe fastidio fare affari con persone che non riconosci molto cosa fare per la foto beh sono cose di buon senso quindi una buona risoluzione ormai qualsiasi telefonino fa bene foto riprendersi farsi riprendere in ambito professionale di evitare le famose foto vacanze anche sui dispositivi mobile l'immagine riesce a essere più riconoscibile e più aggiornata poi foto aggiornate quindi questa è una raccomandazione a quelli della mia età per cui mettere la foto della patente forse non va proprio bene da non evitare questi sono esempi immagino che nessuno di voi vi avrà ma insomma la foto vacanze la foto del venditore in auto i festoni con gli amici eccetera eccetera non vanno bene non va bene neanche la foto che vedete io sono un grande appassionato di montagna ma non va bene la foto in basso perché quel signore lì non è una guida alpina ma è un rivenditore di stampanti quindi non lo fa identificare come tale esempi di foto che funzionano possono essere questi ok sono esempi di foto fatte con un semplice telefonino su uno sfondo neutro evidentemente vanno meglio di quelli di prima passiamo ora al sommario quindi è la frase che troviamo scritta sotto la nostra foto quando uno cerca qualcosa su LinkedIn la prima cosa che vede è la foto la copertina e che cosa come uno si dichiara nella frase che troviamo sotto sono 120 caratteri disponibili dei quali i primi 48 sono visibili nelle preview perché è interessante questo aspetto perché nelle preview ovvero nelle ricerche multipli che fanno i clienti o chi sta cercando persone emergono i primi caratteri quindi è interessante lì già andare al punto di quelle che sono le nostre competenze è solo è un aspetto tecnico un po' un trucco che suggeriamo di applicare un po' quello che facciamo che fanno tutti o che fa LinkedIn automatico se non facciamo niente è mettere il ruolo presso l'azienda oppure ma ormai per fortuna se ne vedono pochi autodefinirsi in modo un po' particolare quello che invece dovremmo fare è usare bene questi 120 caratteri dicendo al mio interlocutore cioè la persona a cui mi sto rivolgendo in che modo io potrei aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi alcune domande che possiamo farsi da cui risposta dovrebbe diventare il nostro sommario che esigenza risolvo il mio potenziale contatto come lo aiuto nel suo lavoro che valore ho per qualcuno quindi tentare di trasformare quello che di solito è un ruolo quindi amministrativo commerciale eccetera in qualcosa di molto più vivo di molto più social che permetta veramente di far capire che valore abbiamo per qualcuno faccio vedere alcuni esempi di titolo chiaramente c'è il mio ma ci sono questi che sono titoli che trovate sommari che trovate in rete che questa questa ragazza è una social media manager vedete che il suo il suo titolo è diverso non è scritto social media manager questo signore è un responsabile commerciale questo signore è sempre un responsabile commerciale che lavora evidentemente molto con l'estero questa ragazza si occupa di marketing all'interno marketing e comunicazione all'interno di una grossa struttura ecco vedete che nessuno di questi ha usato il ruolo ok riempio o informazioni a seconda della versione di piattaforma che avete attivata ci dà uno spazio ben maggiore ci dà a disposizione circa 1800 caratteri per raccontare veramente qualcosa di noi non è in nessun modo un curriculum ma è il nostro valore visto dal punto di vista del cliente in che modo noi possiamo essere utili a qualcuno in questo senso quindi anche qua dico parliamo all'interno dell'epilogo del nostro valore visto dal punto di vista del cliente e magari di alcuni dettagli del nostro modo di operare quindi questo ci differenzia quindi raccontare come facciamo noi le cose dal punto di vista professionale è un elemento distintivo raccontiamogli come attraverso noi può risolvere dei problemi o dei vantaggi e non dimentichiamoci di invitare al contatto quindi all'interno del ripilogo barre informazioni noi invitiamo a contattarci quindi ti interessa quello che ho scritto contattami e lasciamo i nostri riferimenti l'invito siamo su qualcosa di noi come persone non siamo su facebook sono cosciente non raccontiamo troppo ma qualcosa di noi è sempre piacevole da leggere all'interno dell'epilogo vi do come riferimento questo che è l'epilogo di un signore con cui lavoro spesso dove alcune raccomandazioni sono 1800 caratteri sono noiosi da leggere tutti i difilati un buon mezzo è lavorare per punti elenco tutti noi leggiamo molto per punti elenco questo può essere un modo per alleggerire la lettura quindi cerchiamo di parlare di tutte quelle cose attraverso il discorso di punti elenco vedete vedete al termine il concetto di invito al contatto quindi di call to action in cui questa persona dice ok se volete che ne parliamo telefonatemi a questo numero poi ognuno decida se vuol mettere un telefono o una mail però è indispensabile offrire un'occasione di contatto aggiungiamo l'immagine in copertina dicevamo quindi cerchiamo di abbellire il nostro profilo e di renderci un po' di distinguerci da tutti quelli che non ce l'hanno in questo momento quali sono le regole ben rendiamola personale ovviamente nell'ambito professionale se siamo un'azienda se lavoriamo all'interno dell'azienda non esageriamo con il brand aziendale ricordiamoci che il profilo è personale e non è aziendale quindi per carità interessante avere il brand ma dal punto di vista grafico in modo un po' defilato utilizziamo ovviamente una grafica buona in soluzione e cerchiamo di non confondere il visitatore magari mettendo nell'immagine copertina cose che non c'entrano nel nostro lavoro alcuni spunti prendeteli proprio come suggerimenti per esempio potrei usare l'immagine copertina per parlare della mia funzione aziendale in alto vedete un team manager in basso un fotografo oppure potrei avere il brand aziendale vedete un brand sopra e un brand molto sfumato sotto oppure potrei usare dei grafismi che fanno parte normalmente della comunicazione aziendale quindi dove non c'è il nome dell'azienda non c'è il brand in modo dichiarato però dove si può intravedere e comunque non lo puoi interpretare in questo l'ultimo esempio usiamo il prodotto sopra abbiamo un prodotto di tipo meccanico quindi guarnizioni sotto non abbiamo ponti ma abbiamo software per progettare ponti quindi questi sono tutti esempi di immagini di copertina che io potrei usare dicevamo altro elemento rendiamoci contattabili non tutti hanno confidenza con LinkedIn quindi magari qualcuno che è interessato a noi potrebbe quindi ci ha trovati su LinkedIn ma potrebbe essere imbarazzo a usare LinkedIn come mezzo di contatto quindi aggiungiamo le informazioni di contatto LinkedIn ci permette come potete vedere di aggiungere le informazioni di contatto lo facciamo accedendo sempre con le famose matitine alle modifiche ok e vediamo qua qua sotto vediamo le informazioni di contatto in questo caso possiamo aggiungere tutte le informazioni di contatto che lui mi proporrà adesso vi faccio vedere ad esempio queste sono le mie informazioni di contatto nel mio caso io a parte il profilo cito il sito web di riferimento della mia azienda ho un telefono e una mail la mia interessa ad essere contattato certo e quindi metto tutte queste informazioni un nostro cliente che è lo stesso che abbiamo visto prima come esempi come esempi di pagina personale di profilo agendare mette tutte le informazioni di contatto perché lavora molto con estremoriente lui interessa avere all'interno skype e wechat e quindi va a completarle al meglio dei mezzi di contatto stessi parliamo adesso rapidamente della pagina aziendale poi chiedo a Marta di dirmi come siamo con i tempi quando voglia allora la pagina aziendale ci presenta dai abbiamo ancora una decina di minuti per il tuo speech quindi puoi procedere perfetto accelero allora la pagina è organizzata bene o male in modo simile al profilo personale abbiamo un'immagine di copertina la possibilità di inserire un pulsante visita sito web e sulla pagina stessa vedo tutti i dipendenti che si sono collegati a LinkedIn cioè che attraverso LinkedIn sono collegati a noi dipendenti professionisti collaboratori sul lato sinistro vediamo che abbiamo la home page cioè quella dove vedo i contenuti il chi siamo il lavoro e le persone il chi siamo si presenta in modo molto molto freddo molto molto professional quindi una descrizione di chi siamo con tutti i dati diciamo di base quando passo sulle persone vedo tutte le persone collegate all'azienda quindi già in modo nativo se vado a vedere un'azienda più strutturata quindi ovviamente sto guardando IBM stiamo parlando di 596 mila dipendenti su LinkedIn potete vedere e lo vedrete su alcune pagine azienda una pagina aggiuntiva che è la pagina vita questa è una pagina che mi permette di aggiungere al profilo alla pagina LinkedIn diciamo tutto quello che riguarda la vita in azienda la relazione con i clienti i dipendenti che si raccontano e così via ed è una delle pagine utilizzate all'interno del programma Recruiter quindi per favorire l'avvicinamento di candidati allo stesso modo nella pagina lavoro posso vedere tutte le offerte di lavoro attive in questo momento per IBM mi pareva forse 11.300 offerte sempre sulla pagina sulla company page posso andare a collegare a creare una offerta di lavoro vedete che adesso vi ho evidenziato all'interno del menu prodotti che tutti avete potete attivare un'offerta di lavoro pubblicare un'offerta di lavoro che dal punto di vista diciamo visivo si presenta così apre una sessione di offerte di lavoro dopodiché vi guida nel completare l'offerta di lavoro con tutte le caratteristiche dell'offerta stessa alla fine vi dirà che budget volete metterla a disposizione e vi chiederà di pagare con carta di credito contenuti avevamo detto importante sistemare il profilo personale altrettanto importante produrre contenuti la logica è lavorare su contenuti propri quindi produrre post e articoli o lavorare su contenuti di altri consigliandoli commentandoli condividendoli vedete che è un approccio molto simile a quello di facebook quindi non cambia molto come faccio a avviare un post sulla home page o avvia un post o come faccio a scrivere un articolo sempre sulla home page o scrivo un articolo esempi li vedete quanti volete ecco ecco qua qua interessante ogni post e ogni articolo consente di andare appunto a consigliare a commentare o a condividere in questo caso un articolo in questo caso è un post quindi già facendo queste azioni LinkedIn capisce che cosa ci interessa e comincerà a lavorare per noi quali sono i contenuti da pubblicare beh sono vari da una parte ci possono essere notizie legate al settore di cui facciamo parte noi dall'altra consigli pratici domande contenuti per stimolare interazione indietro alle quinte dell'azienda quindi come nasce un prodotto la festa aziendale e così via contenuti generali degli utenti commerciali scusate l'errore contenuti di tipo commerciale e di brand per supportare poi quello che è l'attività commerciale vera e propria passaggio diciamo interessante è quello da poco tempo si possono usare gli hashtag su LinkedIn usare gli hashtag vuol dire qua abbiamo degli esempi pubblico un post aggiungo un hashtag che creo io o che esiste già a quel punto chi visita il mio post può decidere di seguire con l'hashtag cosa succederà che ogni volta che io uso il post in fabbrica succederà che questa persona riceverà se è collegato in un certo ambito di tempo riceverà la comunicazione che c'è un post che gli interessa e quindi potrà vedere il post che io ho pubblicato vedete che poi LinkedIn mi dice guarda che tu hai scelto anche il post in fabbrica come hashtag da seguire per cui io ho sono libero di lasciarlo oppure di andarlo a chiudere nel tempo se non interessa più strategie e connessioni l'altro punto vi ricordate stavamo parlando profilo contenuti strategie e connessioni quindi network e come mia relazione al network beh siamo su un social gli affari si fanno tra persone il numerino che vedete associato a un profilo che andate a vedere è evidenzia il livello di contatto che voi avete con questa persona in questo caso con Carlo Tuzza io ho un primo livello di contatto con Anania ho un secondo livello di contatto vuol dire che non sono collegato direttamente a lui ma sono collegato a lui in questo caso attraverso Carlo Tuzza questo schema dovrebbe semplificarne le logiche quindi P è in contatto con G è un primo livello G in contatto con L è un primo livello ma P ed L sono un secondo livello ok perché è interessante questo perché attraverso i primi livelli io posso arrivare a molti secondi livelli che magari non conosco quando mando un invito per collegarmi con qualcuno è buona educazione è anche molto efficace sia dal punto di vista LinkedIn che dal punto di vista come dire nostro di relazione aggiungere una nota ecco quindi che se io mando un invito a collegarmi a una persona in genere scrivo qualcosa questo è quello che scrivo io per dire buongiorno Martino farebbe piacere aggiungerti alla mia rete grazie il tono è formale e informale al tempo stesso quindi un formale che prevede il buongiorno il grazie quindi non è l'immatrice social inviando un invito così si ha molta più probabilità che la persona poi ci risponda in modo affermativo ci avviamo verso la conclusione per dire che come accennavo prima la vera forza sta nel secondo grado ovvero tutti noi conosciamo molte persone per lavoro per studio per sport per tempo libero è interessante attraverso queste persone arrivare a persone che non conosciamo quindi attraverso il famoso passaparola sia che io cerchi dei clienti sia che per esempio io voglia essere cercato da un datore di lavoro o che io cerchi persone da assumere in questo caso ci facciamo aiutare dei numeri per dire che se se noi sei vero come dice LinkedIn che ognuno di noi conosce 500 persone e vi assicuro che ne conosciamo tante e ognuna di loro conosce almeno 250 persone che noi non conosciamo ci troviamo in una situazione per cui per cui possiamo arrivare teoricamente ma neanche tanto a 125.000 contatti della rete LinkedIn facciamo un passo indietro diciamo che se anche non fosse vero per noi ma noi conoscessimo 250 persone e queste 125 persone mi pare che il numero che ne esce è sempre 36.000 mi pare più o meno 36.000 persone contatti possibili direi che sono numeri interessanti per sviluppare del business se volete un passaggio sulla gestione della rete nel menu rete che trovate sempre nella barra alta di LinkedIn trovate i mezzi per gestirla quindi trovate gli inviti ricevuti quelli inviati e potete decidere se accettare ignorare o nel caso di quelli inviati eventualmente ritirarli perché tanto non siete stati accettati ultimissimo passaggio questo vi faccio questo regalo consideriamolo così è LinkedIn mi come dire mi dà uno strumento per misurare quanto efficace è il mio profilo LinkedIn e la mia attività LinkedIn questo strumento si chiama Social Selfie Index e misura in modo puntuale tutte e quattro le aree di attività che abbiamo visto fino adesso come si presenta si presenta come una vera e propria dashboard quindi pannello di controllo che mi dice il tuo mi dice sostanzialmente questa cosa tu al massimo puoi arrivare a 100 ok 100 è rappresentato dalle quattro barre che vedete sulla destra rispetto eccole qua ok una è creare il brand professionale quindi il profilo deve essere a posto poi trovare le persone giuste vuol dire avere un network coerente ai nostri interessi interagire la terza bar è interagire con informazioni rilevanti quindi è come dire lavorare sui post proprio di altri per condividere per consigliare per commentare o per produrre appunto i contenuti l'ultima è ma l'impegnativa è costruire relazioni quindi non serve essere presenti su LinkedIn se poi noi non viviamo lì come nel mondo reale quindi se non cerchiamo di stabilire effettive relazioni stabilire effettive relazioni vuol dire dialogare semplicemente quando mando una richiesta accompagnarla con una nota o quando ricevo una richiesta rispondere anche con una nota e poi ovviamente tentare di sviluppare il nostro business come fare ad arrivare qua se volete segnarvi questo indirizzo da digitare direttamente sul browser altrimenti da Google vi porta un po' fuori strada ci arrivate ma con un percorso più lungo è questo che leggete www.linked.com slash sales slash ssi digitando questo vi chiederà forse la password dipende un po' da come siete organizzati la password di linkedin voi la ridate e vi farà vedere appunto questa situazione e lì potrete misurare quanto è efficace la vostra attività linkedin settimanalmente viene aggiornata quindi non godiamoci sull'84 perché se non faccio niente dopo un po' comincio a canare quindi devo continuare a tenere attivo il profilo con questo io mi fermerei vi lascio i miei riferimenti anche se preferisco sempre essere contattato attraverso linkedin quindi chiedetemi di entrare in rete su linkedin magari citando il fatto che avete partecipato al webinar e do volentieri anche dei consigli o suggerimenti via linkedin Marta passerei a te adesso allora grazie Giorgio grazie davvero perché guarda ti do un feedback immediato più o meno la totalità delle persone che erano all'inizio sono rimaste fino alla fine quindi questo è un ottimo dato per te allora intanto ti ringrazio per quest'ultimo spunto che ci hai dato sul social media index e vi ho inviato il link che Giorgio vi ha lasciato prima ve l'ho inviato anche in chat quindi basta che ci clicchiate sopra e potete scoprire un po' il vostro index e diciamo in questo volevo collegare la domanda di Giacomo che ci chiede se curare l'improvio profilo personale prevede anche interagire commentare pubblicare o semplicemente basta dei consigli che ci hai dato all'inizio no come dicevamo alla fine uno degli elementi fondamentali che linkedin stesso misura è la nostra interazione come persone quindi quando noi troviamo dei post che ci interessano e che sono coerenti direi alla nostra professionalità o a quello che vorremmo fare è importante che noi interagiamo con i post e con i contenuti di altri è altrettanto importante che noi chiediamo alle persone che ci interessano di entrare in rete sempre aggiungendo una nota perché anche questo viene visto come azione di interazione ok perfetto quindi anche la nota sulla richiesta di collegamento ottimo allora una domanda di informazione Paolo se il webinar registrato sì a tutti i partecipanti e iscritti vi ero l'email con registrazione più slide che Giorgio gentilmente ci lascia allora giusto? no no non te ne lasci adesso ti dico non è una cosa brutta quella che ho risposto allora non vi lascio le slide ma vi do un manualetto vi faccio arrivare un manualetto che non è bello come le slide che non sono tante allora aspetta che l'abbiamo perso ok insomma non è come presentazione ma vi suggerisco è una guida operativa per fare queste prime cose fidata direi che siamo soddisfatti quindi comunque la registrazione la avete in più anche questa cosa che ci cede Giorgio quindi grazie mille domanda due domande che sono correlate da Chiara allora con lo stesso dominio di posta è possibile aprire due pagine business e incorrellato questo non so se è correlato ma se funzionano le pagine vetrina quindi allora con lo stesso indirizzo di posta non posso aprire due profili ok chiaramente poi il proprietario di un profilo può invece aprire una company page ok dopodiché l'altra domanda era sulle pagine vetrine cosa si quindi praticamente allora scusami con lo stesso dominio di posta non due pagine ma una una posso aprire un profilo personale poi il profilo personale può aprire la company page ok quindi la pagina azienda è una sola la pagina azienda può generare le pagine affiliate adesso si chiamano pagine affiliate non sono più vetrina ma affiliate affiliate ok quindi secondo te è una strategia valida ancora quella delle pagine affiliate ha senso è meglio creare diverse pagine da diversi profili personali è chiara che hai fatto questa domanda sì no questa l'ho inventata io perché l'ho correlata vabbè allora no a parte le battute dipende dalla tua strategia cioè linkedin è la vita reale diciamo così quindi se tu nella vita reale apriresti diciamo una vetrina per parlare di qualcosa ha senso quello che sconsiglio di fare è aprire pagine vetrina o affiliate per i prodotti non funzionano quindi alcune aziende in passato avevano creato una specie di catalogo prodotti usando le pagine vetrina questo non funziona le pagine vetrina o adesso affiliate sono destinate ad argomenti di grande interesse comune per i propri clienti faccio un esempio io prima posso ripassare la presentazione un attimo secondo te ma vediamo se non faccio disastri ti vediamo lo schermo quindi va benissimo questo webinar solo perché c'è Marta eh se no mica diciamo la verità prima l'ho saltato un po' via perché ero di corsa però vedete non so se si vede Marta si le pagine affiliate si si vede tutto ecco qui sono all'interno di IBM di quello che avevamo visto vedete che ci sono delle pagine affiliate vedete che i nomi sono analytics cloud services che in realtà IBM usa più per argomenti di discussione che non per eh ok infatti trovo non trovo la vendita del prodotto trovo se mi spiego e vedete che questa pagina ha 150 ok ci vede si 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 ok quindi la logica qual è creo una pagina affiliata cioè un argomento che ritengo molto molto interessante per i miei clienti ok ok da difficoltà ma la vogliamo ottenere va bene si diciamo che non è facilissimo da gestire allora ci chiede Paolo come comprendere i falsi profili ed eventuali rischi si può darci un film veloce su questo che poi ne ho altre direi ma rischi ormai su LinkedIn direi un po' cioè non sono rari i rischi diciamo che non mi è mai capitato di intervenire su rischi reali cioè del tipo non saprei neanche cosa dire l'unico rischio reale può essere che qualcuno che non è nostro dipendente quindi parlo dell'azienda dichiari di essere dipendente per intercettare eventuali richieste dall'azienda ok forse non sono stato chiaro allora se qualcuno si dichiara mio dipendente può succedere per esempio che fa il commerciale per assurdo per un concorrente si dichiara mio dipendente può essere che uno che sta cercando su LinkedIn la mia azienda arriva da lui e quindi ok e quindi mi distragge il flusso di clienti è molto raro sta accadendo qualche volta da parte di diciamo non di italiani ma di altri diciamo di altri paesi nel senso generale tipicamente sud-est asiatico e quindi l'attenzione per chi ha un'azienda è dedicare tempo a vedere la propria azienda che dipendenti ha su LinkedIn ok ok e quindi ti aggancio sempre una domanda sui dipendenti che ci è stata posta allora quanto importante è che i dipendenti siano collegati alla mia pagina nel senso che ci scrivevano che ci sono dei dipendenti che sono state create nel tempo delle pagine fake perché non era ancora attiva la pagina su LinkedIn e ad oggi magari la pagina ufficiale ha meno dipendenti di quelle che ci è creata automaticamente quindi la domanda di quanto è importante era far agganciare i dipendenti è tanto importante perché la mia azienda prende forza grazie ai professionisti che ci lavorano e loro prendono forza grazie al fatto che fanno parte di una bella azienda ok grazie quindi questo è un risposto allora Stefano ci chiede ci sono delle piattaforme per condividere post su più social ce ne sono svariate in giro per LinkedIn è meglio pubblicare su LinkedIn perché ci sono delle regole diciamo dei social cioè conviene condividere diversi sui profili oppure va bene quello che pubblico su Facebook anche su LinkedIn allora ti vedo bloccato Giorgio sì è meglio lavorare direttamente su LinkedIn che però ha il limite di non permettere la programmazione quindi devo lavorare direttamente quando voglio pubblicare devo creare la bozza e poi pubblicare e poi gli altri strumenti di uso comune che lavorano sui vari social funzionano anche su LinkedIn ma con delle limitazioni che a volte sono significative tipo tagare le persone o le aziende questo non si riesce a fare in automatico almeno per la mia conoscenza poi gli strumenti cambiano per cui magari tutta settimana hanno rilasciato qualcosa di nuovo esatto magari lo implementano allora altra domanda ti spremo fino alla fine Giorgio agli ultimi minuti allora è importante stiamo parlando i dipendenti far condividere i contenuti creati su LinkedIn ai propri dipendenti quanta importanza ha? importante è importante l'importante però sopra questo è che i contenuti non siano poco commerciali e molto di contenuto ok e quindi diciamo che tra il condividere e il consigliare è sempre meglio condividere? è meglio se ottengo una condivisione sì per poi magari non tutto va condiviso qualcosa può essere consigliato però sì meglio la condivisione la condivisione però presuppone che quando una cosa venga condivisa ci sia anche un commento che dà valore a questa condivisione assolutamente questo sì anche su regola di tutti i social assolutamente da rispettare se no è inutile penso io non ha valore allora ritorno un attimo a Paolo sulla domanda quella di fake perché dice nel caso si verifichi che qualcuno si colleghi come dipendente ma è fake posso rimuoverlo? no posso rimuovere un dipendente che si è collegato se vedo che non è no posso devo scrivergli e chiedere di rimuoversi ovviamente dicendo di guarda che se non lo fai poi ci muoveremo per vie diverse è chiaro che se ho una situazione particolare posso comunicarla a Linkedin quando Linkedin fa le sue verifiche dopo di che rimuove la persona questo lo faccio attraverso per darvi anche un suggerimento pratico c'è il centro assistenza Linkedin che trovate appunto all'interno del vostro profilo quindi quando guardate la vostro profilo aprite la tendina trovate il centro assistenza lì ci sono delle domande standard se non funzionano c'è contattaci loro sono molto efficienti a rispondere ok questa è sempre un'ottima indicazione allora ultimissime domande questi tool che permettono di programmare su Linkedin diciamo che viene penalizzato se metto lì un post viene penalizzato dall'algoritmo di Linkedin rispetto a quelli che pubblico in modo diretto non c'entra niente è limitato tecnicamente ok perfetto altra domanda sempre al volo allora scusami ho perso allora aspetta aspetta ok proporre oggetti immobiliari immobiliari ci chiede Marco attraverso i post di Linkedin mi può dare una buona visibilità quindi anche la rete immobiliare a quel contesto lì può essere utile a Linkedin allora può essere utile se riescono a essere un po' meno rete immobiliare cioè l'approccio Linkedin non è l'approccio della casa in vendita perdonatevi ma è in che modo io posso darti valore io professionista dell'immobiliare perché ti sono utile che valore ti do ti aiuto a far questo ti accompagno a quello ti pubblico la normativa sul passaggio di proprietà ti pubblico la normativa sulla come dire che so sulla discussione termica quindi io sostanzialmente acquisisco reputazione come serio professionista poi ogni tanto ti metto l'immobile in vendita però deve avere come dire un impatto limitato perché Linkedin chiede professionalità e chiede contenuti ok non chiede trattativa commerciale offerta eccetera ok posso farti l'ultima dopo ti ti riesci ad andare allora straveloce 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 link di pulse sì quando prima ci hai detto scrivi o avvia un posto scrivi un articolo cliccando su scrivi un articolo si va a scrivere su pulse sì perfetto quando tu fai quello che una volta si chiamava pulse ah ok pulse ecco scusami ok è sempre meglio cioè se un articolo sul blog è meglio condividerlo o è meglio scriverlo lo stesso contenuto con il mio blog però tra scrivelo su scrivi un articolo allora la logica di sparmiare energia se io scrivo un articolo sul mio blog poi lo copio dentro al pulse quindi lo copio dentro un articolo e a tutti gli effetti lui va ad inventare il blog di Linkedin quindi è meglio così piuttosto che fare condividi l'articolo come faccio se continui dopo il link meglio così secondo me è più la Linkedin piace di più e ce lo faccio rende più visibile poi magari crea un post che linka all'articolo perfetto bene ti abbiamo ti ho spremuto fino alla fine avrai ancora un sacco di domande però ovviamente il tempo è finito e invito come hai detto tu che sei stato molto molto gentile a darci la possibilità insomma chi ha qualche domanda non spammate me l'ho corretto perché sennò Giorgio non me la vedo io insomma però se avete proprio qualche domanda veloce da fargli trovatele su link e insomma potete porgliela niente Giorgio io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento che è stato molto 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 ok mi senti? tutto ok allora qui grazie mille a noi di tutti perché il tuo intervento è stato veramente importante come dicevo prima vi invieremo la registrazione di email quindi avrete tutto quello che ci ha mostrato oggi Giorgio lo potrete rivedere e gentilmente Giorgio ci ha detto che ci invierà anche un manualetto quindi nell'email vi allegrò anche questo manualetto e niente ti ringrazio Giorgio ciao a tutti grazie per le domande ok ci vediamo il prossimo mese con i webinar esperti e poi in mezzo sono tutti webinar formazione rimanete collegati con noi facebook instagram sito che poi vi daremo tutte le info un abbraccio a tutti grazie ciao fiorenzi ciao maurizio grazie a tutti ciao ciao ciao